Un volo tremendo di circa 150-200 metri e l'impatto fatale contro i sassi del versante. È morta così Giovanna Di Nardo, 57enne originaria di Villa Collemandina ma residente da anni a Via Reggio, insegnante del liceo artistico musicale Passaglia di Lucca. La tragedia è avvenuta sul Monte Cavallo nel comune di Minuciano. L'allarme alla stazione di Lucca del soccorso alpino e spirologico è arrivata alle 22.45 di domenica sera, lanciata dal marito della donna che tramite l'app dello smartphone ha fornito ai soccorritori l'ultima posizione ovvero l'interno del canale dei Lucchesi sul versante nord-est del monte. La donna era insieme ad un compagno di escursione, un uomo di 33 anni di Piazza Alcerchio che i soccorritori una volta raggiunta la cresta hanno trovato un avanzato stato di ipotermia con un tramo alla schiena e con diverse escoriazioni al volto. L'uomo è stato così stabilizzato, imbarellato e trasportato all'ospedale di Castelnuovo dove è stato deciso il trasferimento urgente tramite l'aereo soccorso fino all'ospedale di Pisa, l'uomo adesso in proniosi riservata. La squadra dei soccorritori che ha continuato la progressione del pendio ha trovato quindi il corpo della donna in corrispondenza di un masso all'incirca a metà del canale stesso. I tecnici hanno provveduto al trasporto della salma a valle e poi tramite il mezzo del soccorso alpino fino al campo di Gorfigliano. Il magistrato ha disposto l'autopsia. Secondo quanto riferito dai soccorritori i due escursionisti erano equipaggiati con indumenti leggeri e avevano con sé due cani, uno dei quali è morto cadendo a valle mentre l'altro è rimasto bloccato su una cengia erbosa ed è stato recuperato nella mattinata grazie all'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.